Qualcuno apre la porta? Se mi viene fuori alto posso finalmente cambiare la mia gravata. Tu vai a prendere il palo al cammino e io faccio la spesa. Amore, che idea geniale, è un unico armario per tutta la famiglia. Ci unisce più della tavola da pranzo? No, no, no. Non rispondere, poi la richiamo. Papà ti ha lasciato il villetto. La bustina l'ha usata soltanto per accompagnare le marcherite agli anniversari. È una cosa ufficiale. Vuoi divorziare? Sono solo depresso. Hai visto la mamma? Che vogliamo fare mamma? Ma sei impazzita o rincoglionita? Andiamo. Ma la mamma? Quando pensai a dirmelo? Quando ha intenzione di uscire da lì? Quando torna papà? Ci sono troppe cose che non sai. Perfetto, dimmele. Dimmele! O preferisci scrivermi un biglietto? Dobbiamo fare ancora un sacco di cose insieme. Ti manco io. Ti manchiamo noi. Sai che se proprio dovessi scegliere un posto mi ficcherei anche io in un armadio. Sveglia? Amori miei, sveglia, fate tardi. Ti senti come le tartarughe? Comoda. Sai quando ti criticavo tanto perché insisti sempre? Lo voglio fare anch'io. Io voglio arrivare fino in fondo alle cose. Sveglia. Ciao! Buon appetito!